A distanza di 13 mesi dalle ultime elezioni amministrative, i cittadini di Atri sono chiamati nuovamente alle urne. I prossimi 8 e 9 giugno gli elettori dovranno scegliere il loro nuovo sindaco. In corsa per la carica di primo cittadino ci sono due candidati. Pier Giorgio Ferretti, sostenuto dalla lista per Atri, Ferretti sindaco vicino all'area del centrodestra. Quella di ricandidarmi era ovviamente una scelta scontata per me e per la coalizione naturalmente che mi onoro di rappresentare. I motivi ovviamente sono quelli di riprendere un percorso anche bruscamente se vogliamo interrotto per completare il programma con una squadra rinnovata con tantissime professionalità che saranno capaci di dare naturalmente ulteriore slancio, ulteriori opportunità a questa città anche con idee nuove. Dall'altra parte anche con una buona parte della vecchia squadra che garantisce ovviamente anche una continuità amministrativa e una capacità amministrativa e quindi la fusione, la sintesi tra quello che eravamo e queste ulteriori nuove professionalità sicuramente rappresenteranno una nuova opportunità. Dall'altra parte troviamo Gianmarco Marcone a capo della lista Prospettiva Atri. La situazione di Atri è sotto gli occhi di tutti. È una situazione che sicuramente è stagnante, è una situazione che dovrebbe essere valutata in maniera obiettiva, senza anteporre le simpatie, le antipatie, le ideologie. Noi siamo una piccola comunità e che deve essere amministrata. Chi ha avuto la possibilità di farlo negli ultimi anni, a nostro ovviamente modo di vedere, non è stato in grado di far fare quel salto di qualità, anzi piuttosto si è tornato indietro rispetto ad alcune situazioni. Noi invece riteniamo di avere quell'entusiasmo, quella grinta, quella voglia, quella determinazione giusta per consentire ad Atri di recuperare il terreno perso e perché no anche di iniziare un po' a volare alto. La promessa che io ritengo di poter fare e di poter sicuramente mantenere qualora dovesse essere elettosindaco è quella di un impegno assoluto, una dedizione totale alla causa perché da Atriani amiamo questa città e vogliamo che questa città torni ad essere quella che era una volta. Dunque Atri si prepara a vivere un confronto elettorale che sulla carta si preannuncia, molto equilibrato. La presenza di sole due liste in competizione rende la sfida particolarmente incerta con entrambe le fazioni che cercano di conquistare la fiducia degli elettori attraverso campagne elettorali focalizzate sui temi di maggior interesse per la comunità.